Icastica, Paolo Grassino, che vive e lavora a Torino, per fortuna non è al giro per Arezzo, se no dai Cappaccioni lo finiva, con le sue opere propone una riflessione sulle derivi della società attuale sospesa sul crinale tra naturale e artificiale, tra precarietà e mutazione. Il suo lavoro è soprattutto una ricerca che recupera il pieno, il senso della manualità e allora per andare a toccare con mano la manualità dell'artista ha messo sul sagrato di Piazza San Francesco che all'interno racchiude le opere, insomma quei dipintini del cazzo di Piero della Francesca, quelle favate fatte in tempo passato e per fortuna ha messo quest'opera, ecco il cuore con tutti i suoi ventricoli, il ventricchio destro, il ventricchio sinistro, per i fegatelli magari aspettiamo la prossima Icastica, ma manderei un messaggio a chi ha proposto quest'opera, di mandare a pigliarlo nel buco del cuore, ecco mandiamolo a pigliarlo, buongiorno, che ride lei, venga qua Nati, facile così, andate a pigliarlo nel buco del cuore, voi e chi ve fa organizzare queste cose, balta anche il cuore.